Frizzante, ci sono state occasioni sia da una parte che dall'altra, forse un po' meglio il Tolentino rispetto alla Recanatese sotto il punto di vista offensivo e propositivo. Poi vedremo in questa ultima parte del match come si sviluppirà il gioco della Recanatese e come vorrà cambiare un po' l'approccio dei suoi mister Pagliari che di fatto sono sembrati un po' ingabbiati dalla difesa del Tolentino e dalla fase difensiva di un Tolentino molto deciso. Secondo tempo che è iniziato con Gomez che controlla questo pallone e ricomincia dietro da Alessandrini subentrato nel corso della prima frazione al posto di Meloni, infortunato. Un cambio anche nel Tolentino, è uscito Stefani, è entrato l'Attanzi, un giovanissimo, lavoro non facile per lui, alla sua parte c'è Senegaiesi, finora forse il più presente tra i giocatori della Recanatese. Tortelli di testa, va a lottare i pacciardi con Severini, quindi l'Attanzi ancora Severini col tacco interessante per Zammarchi che prova a chiudere il triangolo, capisce tutto con l'arco anticipo Ferrante che mette il pallone fuori. Stanno provando un po' a comprendersi, a capirsi i due attaccanti del Tolentino, Severini e Zammarchi. Certo hanno bisogno di grande velocità, di grande rapidità per andarsene dalle marcature dei due centraloni della Recanatese. Non è facile, davvero grande fisicità in mezzo al campo per gli ospiti. Quella che di fatto sta un po' mancando il Tolentino, nella figura soprattutto di Ettore Padovani che oggi parte dalla panchina. Rimessa Cremisi. Lattanzi. Severini. Il tocco di Severini. Palla che passa ma non serve nessun compagno. Strano, atterrato, con un fallo, punizione. Punizioni, angoli, comunque palle inattive che saranno una delle armi più importanti a disposizione dei Cremisi in questo secondo tempo. Già nel primo tempo, con un colpo di testa, Nonni ha sfiorato la rete su un calcio d'angolo. Vediamo se i Cremisi riusciranno ad insistere su questo tasto. Tortelli riesce a toccarla. Va a lottare poi Capezzani con Alessandrini. Che non rischia l'intervento. Ancora Capezzani. Palla che esce fuori. Rimessa a capire il Tolentino. Non è d'accordo, mini Cucci, ma... Non si può fare nulla con la decisione dell'arbitro. Potrà battere Nonni. La finta di Severini. Che sterza. Va sul mancino, prova il cross, palla dentro. Tortelli in testa! Non riesce ad inquadrare la porta. Mani nei capelli per Tortelli. Ma ancora una volta Tolentino che... Stavolta con Tortelli. Davvero molto presente Tortelli nell'area di rigore avversaria. Prima con qualche sponda, ora con questo colpo di testa pericoloso. E' Tolentino che comunque si riconferma in ottima forma fisica e mentale. Senigallesi per sbaffo. Anticipato da Nonni. Con un fallo però. Punizione per la Re Canatese. Fisco è arrivato con un attimo di ritardo. Fallo che però sembra esserci perché sbaffo è rimasto a terra. Sembra aver subito il colpo. Re Canatese che ha segnato molto in questo campionato. 37 i gol fatti. Una media di 2,1 gol fatti per partita. 1,7 fatti fuori casa per partita. Occhio però perché di tutti i gol fatti ne ha fatti 15 nei primi tempi e 22 nei secondi. Si guarda che nelle seconde frazioni riesce a sbloccarsi, a sciogliersi. E ad essere anche più pericolosa e più decisiva in zona gol. Alessandrini. Ferrante. Lancio lungo di Ferrante. Falla facile questa per Nonni che va a controllare con la suola. Poi la mette fuori perché stava arrivando Francis Gomez. L'impressione a dare fastidio. Ancora Nonni. Prova a sfondare. Tocca il pallone Minicucci. Le mette un po' in mezzo Nonni. Quindi Micoli. Le occuperà un pallone importante. Capezzani. Fallo di Raparo. Netto e cartellino. Rosso. Attenzione. Cartellino rosso per Raparo. E dunque Re Canatese in dieci. Prima svolta della partita. Entrata dura di Raparo. Su Capezzani che rimane a terra. Raparo espulso. E attenzione anche Rissa in mezzo al campo. Arrabbiatissimo. Santiago Minella. Raparo espulso. E vediamo come correrà ai ripari. Mister Pagliari. Perché fuori Raparo. Intanto c'è anche un giallo. Credo per Santiago Minella. Primo munito per la Re Canatese. Santiago Minella. Che ha subito il colpo Capezzani che è rimasto a terra. Raparo è entrato duro. Il ritardo. L'arbitro era lì vicino. Ha valutato come estremamente irregolare questo fallo. E ha tirato fuori subito il cartellino rosso. Senza neanche esitare. Naturalmente sono episodi che bisogna rivedere questi. Perché a velocità normale. Si può avere ragione come si può avere torto. A una prima decisione. A una prima valutazione. Capezzani è rimasto a terra. L'arbitro ha deciso così. Naturalmente la decisione dell'arbitro non si può cambiare. Questo è insindacabile. Raparo è ovvio che sia rammaricato ed arrabbiato. Come tutti i giocatori della Re Canatese. Che dovranno giocarsi questo secondo tempo. Con un uomo in meno. Non era stata una partita facile finora per i uomini di Mester Pagliari. Lo sarà. Sarà ancora più difficile. Con l'espulsione di Raparo. Ha munito anche sbaffo. Prova a mantenere un po' la calma. Mester Pagliari che sembra essere il più calmo di tutti i suoi. È normale perdere un po' i nervi. In questa situazione. Ripeto. Difficile capire se era davvero da rosso l'intervento di Raparo. Questo bisognerà rivederlo. Poi anche in Serie A. Anche col VAR. La decisione è sempre soggettiva da parte dell'arbitro. Evidentemente. Il direttore di gara ha pensato e ha voluto interpretare come estremamente falloso. E estremamente pericoloso l'intervento di Raparo. Credo per un piede a martello. Cabelzani si è rialzato. Non dovrebbe essere nulla di grave per lui. Ricapitoliamo un attimo la situazione. Siamo ancora sul risultato di 0-0 quando siamo al sesto del secondo tempo. Ma l'area canadese ha perso un uomo. Espulso Raparo. Ora il Tolentino ha il compito di spingere. Severini. Capezzani. Miccoli. La pressione su di lui di due uomini. Deve ricominciare da Capezzani. Rimangono in avanti gli attaccanti del Tolentino. Aspettare un passaggio che non arriva. Strano. Tortelli. Bravo. Muoversi in mezzo dove non c'è più Raparo. Ora il Tolentino ha grandissima superiorità numerica in mezzo al campo. Salvatelli. Due su di lui. Le finte di Salvatelli. Che prova ad andarsene. Penetra in area di rigore. Prova il cross. Addirittura per l'attanzi. Che la rimette dentro. Tortelli. Il tiro. E di fatto se lo mangia qua. Se lo mangia Tortelli. L'avesse colpita bene qua. Urbietis. Avrebbe dovuto volare. Il Tolentino ancora può spingere. Vediamo quale sarà il cambio. Per l'area canatese. Vediamo se ne terrà Grieco. Vediamo. Senigayesi. Credo che potrebbe uscire uno tra Minicucci e Senigayesi. Nonni pulito. Qua su Minella. Non secondo l'arbitro. C'è Fallo. Fischiato con un attimo di ritardo. Ci ha pensato due volte. Minella che sta soffrendo non poco le marcature dei centrali del Tolentino. Che stanno ingabbiando per bene l'attaccante argentino. Pacciardi sul punto di battuta. Rimane alto sbaffo. Minicucci. Grande controllo col mancino. Senza neanche pensarci. Cerca il suo piede. Prova a servire Minella. Capisce tutto. Nonni che allontana il pericolo. Ferrante. Alessandrini. Capezzani su di lui. Aggressivo Capezzani. Sta giocando una grandissima partita. Gomez. Pacciardi. Allarga il gioco per Quacquarelli. Cerca il destro. Chiuso da Tortelli. Vicino c'è Senigayesi. Solito due contro due su quella fascia. Tra centralmente Senigayesi. Poi subisce un fallo. Punizione. Reazione d'orgoglio qua della canadese. Che con un uomo in meno. Sta provando a spingere. Nonostante l'inferiorità numerica. Punizione per gli ospiti. Sul punto di battuta. C'è Quacquarelli. Ma c'è anche Senigayesi. Occhio a Quacquarelli. Perché ha già fatto due gol in questa stagione. Un giocatore pericoloso. Che ha anche un buon piede. Potrebbe batterla anche lui. Questa punizione. Quacquarelli. Che tra l'altro è l'unico under. Che ha fatto gol per l'area canadese. In questo campionato. Ma occhio a Senigayesi. Che è il grande specialista. Può andare col destro. Due in barriera. Per Bucosse. Ma credo che possa andare anche in porta. Senigayesi da lì. Non sarebbe una novità. Va lui. Prova il tiro. Un po' la Giunigno. Che però non si abbassa. Finisce fuori. Non bene qua. Ci ha provato comunque Senigayesi. Ha il piede. Ha la qualità per farlo. Intanto è pronto il cambio per l'area canadese. Entrerà Grieco. Vediamo chi uscirà. Io credo uno fra Senigayesi e Minicucci. Ad occhio. Vista la partita. Credo più Minicucci. Ma vediamo. Pronto. Però un altro cambio anche. Che è Ferretti. È un attaccante. Esce Sbaffo forse. No, no. Sbaffo non esce. Sbaffo chiede qualcosa alla panchina. Sembrava strano. Esce Minella. Esce Minella. Non la sua miglior partita. Per Santiago Minella. Che torna. Il final della vittoria viene sostituito dopo poco meno di un'ora di gioco. Duello fra lui e Strano. Vinto da Strano. Esce Minella. Entra Grieco. Sbaffo che va a fare la punta. Grieco credo che andrà ad accompagnare Gomez in mezzo al campo. Cresciuto nella primavera dello Spezia. Grieco. Esperienze in Serie 5 con Germana, Matera e Carpi. E una in Serie D con la Vis Pesaro. La 697. Nonostante la giovane età ha l'esperienza giusta per giocare a questi livelli di Serie D. Ferretti ancora non pronto ad entrare. Si è ravvicinato alla panchina ma... Cambio che è stato rimandato. Dunque cambia in questa maniera la Re Canatese. 4-2-3. Con Gomez e Grieco in mezzo al campo. Sbaffo che fa la punta. Dunque si abbasserà molto di meno. Andrà a prendere qualche pallone alto in più in avanti. Miccoli. Lotta Tortelli con Gomez. Bravo Tortelli a servire Miccoli. Che poi viene anticipato da Quacquarelli. Quindi Gomez. Prova a gestire il pallone in mezzo al campo. Le finte di Gomez. Che manda a lungo Capezzani. Ancora Gomez. Gestione ottima del possesso per Gomez. E quindi Alessandrini per Minicucci. Si è inserito Alessandrini. Cerca il macino Minicucci. Vuole il cross. Palla dentro. Bonacchi la mette in porta. Quindi Bucose. Sbaffo il tiro. Bucose. Ma c'era fuori gioco. Ma c'era fuori gioco. Cosa ha fatto Bucose. Incredibile. Prima su Bonacchi e poi su Sbaffo. Cosa si è inventato Bucose. Davvero. Ha volato. Come nessuno se lo sarebbe potuto aspettare. Non per le sue qualità che gli permettono di fare queste cose. Ma per questo campionato. È davvero difficile vedere una parata del genere. Che parata. La parata più clamorosa è quella su Bonacchi. Davvero ha fatto un intervento clamoroso con una mano. Pazzesco. E spulso addirittura un altro dalla panchina della Reganatese. Credo il team manager della Reganatese. Davvero. Continua. La battaglia personale. Il signor Dylan Marin con i uomini della Reganatese. Ed esce. Credo il team manager esce. Viene mandato fuori. Nel secondo tempo. I rapporti tra il direttore di gara e gli uomini della squadra ospiti si sono un po' infuocati. Chiaro che l'area canatese oggi non può perdere punti. Non può iniziare questo 2022 con un'altra non vittoria. Però la partita non si è messa benissimo per i uomini di Pagliari. Il primo tempo in cui il Trontino ha fatto meglio. Poi l'espulsione di Raparo. Vediamo cosa potrà fare il mister Pagliari anche con qualche cambio. Che potrebbe essere decisivo perché devono ancora entrare Ferretti, Defendi e altri. C'è ancora tanto tanto da dire. Tortelli di testa. Quindi Severini. Capezzani per Zammarchi che si è mosso con i tempi giusti. E' bravo poi Pacciardi a mettersi avanti col corpo e a far valere la sua quantità. Avrebbe voluto un fallo mister Mosconi ma non c'è nulla. E' stato bravo qua Pacciardi a mettersi avanti col fisico. Rimessa per il Trontino. La va a battere Nonni. Andrà a cercare credo Tortelli sul primo palo. Anche se Tortelli rimane dentro l'area di rigore. E va a prendersi proprio ora il primo palo. Eccolo Nonni. Che cerca Tortelli. Palla ribattuta. Severini. Il tiro deviato che finisce fuori. Anzi non c'è stata neanche la deviazione con l'esterno Severini. Ha tagliato la traiettoria che è finita fuori. Che occasione per il Trontino davvero. Le occasioni sta creando e non poche la squadra di mister Mosconi. Il problema è che non le sta sfruttando. Quello che manca è proprio... Uomo che ora è in panchina si è Ettore Padovani che oggi da ex credo che avrebbe avuto tanta voglia di andare a trasformare tutte queste occasioni in gol. Gomez non benissimo. Deve dargli una mano qua Ferrante. Quindi Alessandrini non ha spazio per salire. Deve lanciare unicamente in avanti. La prende però strano che non rischia e la mette fuori. Stanno un po' alzando i ritmi. Il canadese che ha bisogno, ha tutto il bisogno di spingere. Il Trontino che deve invece provare a sfruttare le occasioni che gli si palesano davanti. Intervento di Ferrante sul pallone. Quindi Nonni a cercare Zammarchi. Uno contro due. Deve correre all'indietro Pacciardi. Prestato da Zammarchi. La prende proprio lui che la va a dare a Severini. Palla sul mancino. Prova ad andarsene atterrato con un fallo e punizione per il Trontino. Intervento che era chiaramente fuori dall'area di rigore. Giallo per Quacquarelli. Un altro ammonito per l'area canatese. Punizione per il Tolentino. E un'altra occasione per i Cremisi. Però bravissimi i Cremisi. Che non si stanno sbilanciando. Nonostante la superiorità numerica. Non stanno lasciando gli spazi per colpire l'area canatese. Invece stanno sfruttando quelli che l'area canatese gli sta lasciando per forza di cose. Bravi Quazamarchi e Severini in coppia. A dare fastidio a Pacciardi. Di che lì avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Ma una situazione davvero difficoltosa. Poi ancora più bravo Severini qua a prendersi questo calcio di punizione. Costringendo Quacquarelli al fallo. Occhio alla punizione perché Capezzani, l'abbiamo detto, ha già segnato da ex alla re canatese. E ha già segnato da punizione. Non solo in questa stagione. C'è anche Severini sul punto di battuta. Quattro in barriera. Piazza la barriera Orbietis. Che ha messo anche il cappello un po' alla Benji Price. Per rimbarassi dal sole. Ad allungare la barriera ci sono Nonni e Tortelli. In rete da punizione Capezzani scorsa stagione contro Rieti. Va proprio lui. Capezzani il tiro blocca Orbietis. Davvero con grandissima sicurezza. Poi prova a ripartire subito in velocità. deve intervenire subito Bonacchi che chiude subito la porta in faccia a Gomez. Bravissimo Bonacchi. Intervento provvidenziale perché la re canatese stava ripartendo in velocità in superiorità numerica. In quel frangente intervenuto con i tempi davvero perfetti Cristian Bonacchi. Paciardi. Seconda palla di Tortelli che la butta subito in avanti a cercare Zammarchi. Deve uscire Orbietis che non la può prendere con le mani. La allontana con i piedi. Quacquarelli prova a tenerla in gioco e ci riesce. Gomez. Seconda palla che è sua. Allarga il gioco dalle parti di Senigayesi che però è in fuorigioco e lascia il pallone a sbaffo. Che prova ad andarsene grande tocco di sbaffo per Senigayesi. fermato con un intervento falloso da Bonacchi e cartellino giallo per Bonacchi. Giallo per Cristian Bonacchi. Ma qui questo giallo è tutto merito del tocco di sbaffo. Tocco di prima che ha costretto Bonacchi e Girazzi ad intervenire in maniera fallosa secondo l'arbitro. Cartellino giallo e punizione per la re canatese. Ora i ritmi sì che sono alti. Le occasioni ci sono. Le squadre si stanno allungando. Re canatese che deve rischiare. Tonentino che invece deve rimanere un po' più razionale su questa partita. va l'ex Senigayesi. Lo specialista due in marrera per Bucosse. Che vuole continuare la sua straordinaria partita. credo che andrà in porta Senigayesi. Anche se prima non gli è uscito bene il suo destro. Senigayesi in porta! Bucosse! risponde ad Urbietis e la mette fuori. Davvero due grandi portieri oggi. Urbietis con grande sicurezza. Bucosse con interventi straordinari. Ma c'è un'altra opportunità per la re canatese. Caccio d'angolo. sempre Luca Senigayesi a battere. Arbitro che va ad accettarsi che in aria sia tutto a posto. 19 del secondo tempo sul cronometro. Sempre 0-0 tra Tolentino e Re canatese. Qualcosa da ridire credo a Bonacchi a parte del signor Dylan Marin. Occhi esaltatori. Senigayesi morbido. Palla dentro. Capezzani allontana. Quindi Miccoli. La tocca in qualche modo per Nonni che prova ad alzare i giri del motore. Prova a correre con Quacquarelli. La tocca. Non c'è nessuno però in avanti a dargli una mano. Alessandrini. La pressione di Severini. Minicucci. Salvateri su di lui. Il lancio di Minicucci. E qui si vede che la regalata è andata in 10 perché Sbaffo si era allargato per andare a coprire proprio la posizione lasciata libera da Minicucci lasciando pro vuoto il punto in mezzo al campo in cui il pallone è andato a cadere. Minicucci. Per Alessandrini. Di prima in avanti a cercare Sbaffo l'anticipo di Nonni con l'esterno. Palla troppo lunga che viene allontanata. Davvero secondo tempo reso vivo dall'espulsione di Raparo. Ma equilibrio che davvero sembra molto molto sottile basta un episodio per cambiare gli equilibri di questa partita. Urbi Etis rinvio lungo a cercare Minicucci l'anticipo di Nonni che prova a cercare qualche compagno in avanti c'era Zammarchi che però era in fuorigioco è stato costretto a non intervenire su questo pallone. Senigayesi se ne va Senigayesi con un tocco prova a convergere centralmente quindi Sbaffo Gomez poco spazio per lui l'intervento dei Tortelli ancora Gomez prova la Veronica che ha da terra non c'è nulla può continuare a giocare il Tolentino Severini sta arrivando Minicucci su di lui Severini non lo vede e Minicucci strappa il pallone quindi Greco ancora Severini lotta con lui in qualche modo Paciardi riesce a lanciare un grandissimo pallone per Sbaffo che deve andare a duellare con Nonni Gomez in area di rigore palla dentro Bucosse blocca in due tempi applausi per Bucosse che probabilmente sta facendo la miglior partita da quando è il Tolentino davvero interventi cramorosi grandissima sicurezza un portiere pazzesco che nella sua esperienza con la Juventus è cresciuto tantissimo spazio per Miccoli c'è Capezzani libero dall'altra parte lo vede Miccoli lo va a servire con un ottimo lancio da far imbalzare Alessandrini forse in maniera anche colpevole Severini allarga per Salvatelli due su di lui prova il cross Minicucci ci mette la gamba e mette il pallone fuori Tolentino che sta provando a prendersi un po' l'ampiezza per allargare le maglie degli ospiti non è facile però ma nonostante la superiorità numerica l'arcanatese c'è Salvatelli cada a terra non c'è fallo il fallo poi lo fa lui per il suo gioco da terra punizione per l'arcanatese Tolentino che deve prendersi l'ampiezza deve provare a sfruttare questa superiorità numerica senza rischiare di sbilanciarsi perché mister Pagliari questa partita la vuole naturalmente vincere entra l'ex San Benedettese Ferretti ed esce Minicucci non una grandissima partita per Minicucci la qualità di Ferretti sulla fascia destra cambia l'avversario per Salvatelli è un avversario ostico tanto quanto Minicucci tanta qualità un giocatore di esperienza che ha cominciato la sua stagione nella San Benedettese poi il suo trasferimento nell'arcanatese per raggiungere qualità in numeri ad un reparto che davvero non mancava di questo tipo di qualità andiamo ad arrivare ancora ai cambi del Tolentino Padovani non si scalda forse non è in grado di giocare oggi si scalda Cicconetti vediamo se se farà qualche cambio mister Mosconi chi entrerà Capezzani per Tortelli larga per Bonacchi Tortelli di prima a cercare Lattanzi non va a duellare con Quacquarelli che la prende di testa è bravo però perché si prende la rimessa laterale vediamo un attimo i cambi perché si scalda Fofanà per il Tolentino si scalda Cicconetti i tanti under che potrebbero dare freschezza al Tolentino vediamo se mister Mosconi vorrà fare il cambio prima che si entra negli ultimi 20 minuti praticamente siamo quasi dentro gli ultimi 20 minuti mister Mosconi sembra voler tenere ancora la formazione con cui ha di fatto cominciato escluso Lattanzi che è entrato praticamente però a inizio partita vediamo Miccoli in mezzo al campo prova a far valere la sua qualità Gomez però chiude tutto Pacciardi servire Senigayesi che scivola in qualche modo prova ad andarsene Senigayesi gioca Bonito se ne va sbaffo può puntare allarga poi per Senigayesi nell'unico punto libero del campo palla sul destro guarda l'area di rigore punta l'uomo va sul piede buono il tiro Senigayesi e palla che finisce fuori incredibile brivido per il Tolentino occasione clamorosa questa per Senigayesi lasciato libero e non è la prima volta che il Tolentino lascia quello spazio libero da quella parte forse qualche problema per Lattanzi che sembra toccarsi la coscia infatti è così problema per Lattanzi incredibile fascia maledetta con la testa per il Tolentino oggi esce lui vediamo chi entra Lattanzi non ce la fa pronto un cambio davvero sfortunato ecco perché forse il Tolentino ha lasciato libera quella fascia perché Lattanzi non ce la faceva entra Prosperi che però è un attaccante quindi credo che Severini andrà a fare l'esterno da quella parte vediamo è una scelta offensiva quella di mister Mosconi entra Prosperi che ha sfiorato il primo gol col Tolentino proprio domenica scorsa prendendo il palo esce Lattanzi che non ce la fa approfittiamo di questa piccola pausa per ricapitolare un attimo la situazione 25 inoltrati del secondo tempo gli ultimi 20 minuti di gioco sono iniziati da qualche secondo 0 a 0 tra Tolentino e Recanatese Recanatese in 10 uomini per l'espulsione di Raparo è uscito ora per il Tolentino Lattanzi entrato Prosperi il giovane Prosperi classe 2003 con Severini che andrà a fare l'esterno destro Salvatelli Nonni deve rinviare sulla pressione di Ferretti poi bravissimo strano chiudere tutto deve intervenire però anche Bucose perché arriva Sbaffo a dargli fastidio Bucose vorrebbe la rimessa dal fondo ed è bravo a prendersela Sbaffo non è d'accordo Sbaffo vorrebbe il calcio d'angolo ma non è così secondo l'arbitro neanche secondo l'assistente ha rischiato non poco qua il Tolentino sulla pressione di Ferretti che è arrivato a velocità supersonica sul rinvio di Nonni pronto a rinvio Bucose cercare i tortelli che credo andrà a staccare con Gomez è così atterrato da Gomez senza fallo lotta anche Capezzani l'arbitro lascia correre tutto e si continua a giocare strano di testa seconda palla che è di Capezzani che la mette giù con il destro la lancia in avanti con il mancino quindi Ferrante lotta con Prosperi costretto a mettere il pallone fuori Ferrante non sarà una partita facile questa per Prosperi perché lui è un giocatore di fisico un giocatore di posizione ma dovrà lottare con due armadi come Ferrante e Pacciardi Prosperi la tiene sulla bagnerina in mezzo a due in qualche modo serve Capezzani in gran lavoro qua di Ferretti che lotta e strappa il pallone via Capezzani si prende anche il calcio di punizione entrato molto bene in partita Ferretti davvero un ottimo atteggiamento quello del numero 19 che è andato a prendersi il posto di un non esaltante minicucci oggi lungo Urbietis cercare sbaffo che la tocca non c'è nessuno però con la maglia nera da di supporto la blocca Bucose e nonostante la superiorità numerica il Torrentino non sta riuscendo ad avere un predominio sul campo sull'area canatese che con grande esperienza sta gestendo questa situazione davvero con lucidità ha dato atto alla squadra di mister Pagliari che ha dovuto passare un momento non facile soprattutto a livello nervoso con qualche ammunizione dell'arbitro rischiava un po' di perdere la testa la recanatese invece la squadra di mister Pagliari è rimasta lucida ed è totalmente in partita su questo risultato nonostante l'uomo in meno la recanatese non sembra avere un uomo in meno sbaffo strano vorrebbe il fallo sbaffo non c'è nulla secondo l'arbitro quindi Nonni la rinvia subito in avanti a cercare Prosperi che va a fare a sportellate con Ferrante bravissimo Prosperi poi arriva Pacciardi che interviene di testa e si prende il pallone vorrebbero un fallo quelli del Torrentino non c'è nulla secondo l'arbitro Pacciardi per Quacquarelli la pressione di Miccoli che si alza su di lui Senigagliesi Severini su di lui ancora Senigagliesi è bravissimo ad andarsene centralmente poi il fallo di Miccoli che interviene nettamente sull'uomo e si prende il cartellino giallo si è rialzato Prosperi nulla di grave per lui si arrabbiano i giocatori della recanatese e credo non accennato una piccola protesta per un cartellino rosso per Miccoli che non c'è secondo l'arbitro fallo netto giallo netto è canatese che oggi ha bisogno di vincere sia per il risultato della scorsa partita la sconfitta di Chieti ma soprattutto perché domenica prossima al Tubaldi c'è la Sambedettese impegno assolutamente ostico per chiunque vista la rosa della Sambedettese e vista soprattutto la classifica della Samba che costringe i uomini rosso-blu a lottare su ogni partita come se dovessero vincere il campionato Prosperi lotta conferrante palla che finisce fuori l'ultimo a toccare è stato proprio l'attaccante del Tolentino sarà dunque rimessa laterale per i Cremisi grande rammarico per i Cremisi è proprio quello di non poter mettere in campo un attaccante come Padovani oggi soprattutto in questa situazione con un uomo in più avrebbe davvero dato una marcia in più a questo Tolentino che domenica prossima affronterà fuori casa l'Aurora Alto Casertano rischia tanto qua Severini che perde il possesso non interviene Tortelli direttamente su Ferro che perde comunque il paio non preciso per Capezzani palla lunga Alessandrini sul pallone si prende anche il fallo buono il suo lavoro Tolentino che ora sta perdendo un po' la testa a differenza di quanto fatto nei primi minuti del secondo tempo allora il Tolentino che sta un po' soffrendo sotto questo punto di vista evidentemente evidentemente la superiorità numerica sta dando un po' di pressione al Tolentino sta mettendo un po' di pressione al Tolentino un po' d'ansia e anche la volontà di andarsi a prendere il bottino pieno che è chiara vista la situazione degli uomini in campo vista la superiorità numerica e vista anche la partita del Tolentino che si è reso più volte pericoloso costringe i cremisi anche a sentirsi un po' di pressione addosso certo un pareggio oggi contro l'Ara Canatese varrebbe come una vittoria visto come ha concluso il Tolentino la partita domenica scorsa e vista la classifica dell'Ara Canatese pareggiare contro la prima della classe è sempre come una vittoria Ferretti gran tocco per Gomez quindi sbaffo di prima dietro per Alessandrini controlla colpetto Gomez non facile in mezzo a tre palla allontanata in qualche modo messa giù da Ferretti quindi sbaffo palla sul maccino si è mosso Senigayesi che palla dentro Senigayesi che parata ancora una volta di Bucose che dice di no con le mani o con i piedi non fa differenza Bucose finora man of the match che parata azione però ancora viva Senigayesi vuole puntare palla dentro palla troppo lunga qua per sbaffo Ferretti due su di lui Gomez si fa vedere sul plus di Ferretti che cerca il maccino palla interessante scivola Bonacchi cade a terra anche sbaffo che vorrebbe un rigore non c'è nulla secondo l'arbitro non c'è nulla secondo l'arbitro 33 sul cronometro del secondo tempo sempre 0 a 0 tra Tolentino e Recanatese Recanatese che nonostante l'uomo in meno sta spingendo e lo sta facendo in maniera pericolosissima la palla di sbaffo per Senigayesi un qualcosa che è difficile da descrivere una palla illuminante uno squarcio in un momento di difficoltà per la Recanatese e poi è arrivata la parata di Bucose che davvero sta facendo una partita pazzesca pronto un cambio per il Tolentino entrerà Cicconetti vediamo chi esce forse uno tra Zammarchi e Severini Severini non credo perché ormai fa l'esterno destro credo che il maggiore indiziato sia proprio Zammarchi invece è Miccoli invece è proprio Miccoli ed è un cambio offensivo questo per il Tolentino perché Cicconetti si è vero ha fatto anche il centrocampista ha fatto l'esterno ma è diventato un attaccante non vuole rischiare anche questo non vuole rischiare di rimanere in dieci mister Mosconi dunque esce Miccoli entra Cicconetti vediamo dove si metterà Cicconetti sembra proprio a fare la mezzala la mezzala molto offensiva rimessa battuta forte da Alessandrini addosso a Salvatelli la va a ribattere ancora Alessandrini no un intervento pulito d'esperienza su Ferretti che abbozza una protesta ma non c'è nulla dieci più recupero al termine sempre zero a zero non sembra esserci spazio per Ettore Padovani che non si sta scaldando evidentemente non ce la fa vediamo se farà qualche altro cambio mister Mosconi se entra Fofanao o qualcun altro ancora defende in panchina invece mister Pagliari Gomez strappa il pallone Cicconetti senza fallo poi allarga per Senigayesi brutto qua il tocco e palla presa proprio da Senigayesi che va da sbaffo fuori dall'area di rigore prova ad inventare sbaffo palla che schizza e viene presa poi da Bucosse è rimasto a terra Cicconetti che ha subito un po' il colpo credo che nell'intervento di Gomez abbia subito una ginocchiata credo alla coscia nulla di grave comunque per lui fortunatamente vediamo come si svilupperà questo finale perché il Tolentino è un po' trattenuto da una parte e dall'altra diciamo da una parte c'è la volontà di vincere dall'altra c'è quella di non perdere quindi di prendersi comunque un pareggio interessante con l'area canatese che ha anche sì la necessità di vincere ma che ha anche quella di non perdere vista la situazione di oggi anche per i leopardiani un pareggio non è da buttare quindi potrebbe essere un finale infuocato con due squadre che vogliono vincere oppure anche un finale più conservativo con due squadre che si accontentano del pareggio che magari provano a sfruttare qualche imprecisione dell'avversario a fuorigioco di Prosperi che stava lottando con Ferrante punizione per l'area canatese che credo batterà proprio Ferrante invece no la lascia d'Urbi Etis finora oggi il mio rincampo due portieri con Bucose che credo abbia superato d'Urbi Etis per la qualità e la magnificenza dei suoi interventi nel secondo tempo Quacquarelli sfonda sulla sinistra quindi Gomez prova a metterla giù invece la mette su allontana tutto strano quindi Ferretti in mezzo a due può fare poco provano a chiuderlo i giocatori in cremisi palla poi allargata dalle parti di Greco che viene fermato quindi Prosperi grandi invenzione qua di Prosperi che prova ad andare da Zammacchi chiude tutto però poi Pacciardi a terra quelli della Recanatesi si continuano comunque a giocare perché gli uomini della squadra ospite mantengono il possesso Ferretti Torrentino che ripiega con grande velocità e che non lascia spazio gli uomini maglia nera ad inventare lancio lungo in avanti a cercare sbaffo allontana Bonacchi quindi Tortelli con Gomez ha terrato Tortelli con un fallo punizione pronto un cambio per il Torrentino entrerà Bartoli vediamo chi uscirà forse uno tra Capezzani e Tortelli o forse Severini vediamo esce Capezzani credo esce Capezzani che ha fatto una gran partita esce proprio lui ed entra Bartoli nuovo acquisto che ha già debuttato nella gara di domenica scorsa contro il Montegiorgio intanto ai crampi Salvatelli credo che anche Fofana sarà pronto ad entrare infatti è così tra qualche istante entrerà Fofana chiede l'ora a Salvatelli e manca ancora qualche minuto e mancano sette più recupero lungo Bucosse la prende Ferrante quindi Grieco anche lui cerca la verticale non c'è nessuno però con la maglia nera sta arrivando sbaffo deve metterla all'indietro di testa strano sulle mani di Bucosse continua a scaldarsi intanto Fofana ancora nel suo momento ma credo che entrerà entro pochi istanti lungo Bucosse Pacciardi di testa pala che rimane lì Grieco con l'aiuto di Gomez la tocca comunque Cicconetti lotta con l'ultime forze Salvatelli in qualche modo la tiene in campo ma è bravissimo però Alessandrini a tenerla sua Ferretti per Alessandrini brutto il tocco di Ferretti che chiede scusa pala che finisce fuori rimessa per il Tolentino che nonostante la superiorità numerica di fatto non è riuscito a far valere questo vantaggio in questo secondo tempo è stata comunque una seconda frazione molto equilibrata quella tra Tolentino Salvatelli che continua a giocare continua a raschiare il fondo delle sue energie rimessa a Tolentino la batte Cicconetti che andrà lungo lunghissimo a cercare i nonni non arriva la spizzata quindi Gomez la allontana e libera l'area quindi Bonacchi per Cicconetti palla sul destro prova il cross interessante palla dentro ancora Ferrante quindi Bartoli la conclusione blocca Orvietes prova a presentarsi così al pubblico della vittoria Bartoli Orvietes non c'è un attimo di pausa subito è lungo per sbaffo che la mette giù quasi senza neanche guardarla ancora sbaffo interessante per Gomez Nonni quasi con un piede solo riesce a rimanere in piede ad allontanare il pallone Pacciardi allarga il gioco dalle parti di Senigallesi uno contro uno con Severini grandissimo controllo di Senigallesi che fa il tiro Bucosse ancora una volta ha preso anche questa continua il duello a distanza fra Senigallesi e Bucosse finora stravinto da Bucosse con interventi davvero pazzeschi oggi sembra davvero in giornata di grazia in stato di grazia Bucosse 41 del secondo tempo sul cronometro 4 più recupero al termine della partita sempre 0-0 tra Tolentino e Recanatese corner per la Recanatese batte Senigallesi col destro palla morbida Bucosse blocca Bucosse blocca anche questa sembrava essere rimasto sospeso in aria Bucosse finora dominatore assoluto della partita il che implica anche che la Recanatese nonostante l'inferiorità numerica ha creato tanto e ha creato anche bene perché Bucosse in più di un'occasione si è dovuto superare soprattutto su quell'occasione per Senigallesi in cui Bucosse addirittura con un piede ha salvato il risultato partita però ancora apertissima Recanatese in 10 mancano 3 minuti più recupero e siamo ancora sul risultato di 0-0 Tolentino che sta provando ad inventarsi qualcosa mancano forse un po' di centimetri un po' di forza fisica un po' di esperienza là davanti per rendersi pericolosi rimessa Cremisi la batte Cicconetti andrà lungo e queste sono occasioni per il Tolentino teso Cicconetti palla allontanata Tortelli addirittura prova il tiro non bello palla che finisce fuori Tolentino che si sta rendendo pericoloso solo sulle palle inattive se possiamo considerare le rimesse laterali palle inattive ma di fatto in queste di fatto queste sono le uniche in cui i Cremisi non possono sfruttare la superiorità numerica perché poi la Recanatese si può difendere con tutti i uomini che vuole dentro l'area di rigore Salvatelli è stanco ma ancora ne ha per correre per servire Prosperi in avanti uno contro uno con Alessandrini Prosperi sul cronometro sempre 0-0 pronto il cambio o almeno quasi per il Tolentino entrerà Fofanà ma credo tra qualche istante e non ora infatti l'assistente non vede non vuole vedere cambio che verrà fatto dopo Tortelli di testa palla che passa allontanata da Strano lotta Zammarchi salta Pacciardi che atterra Zammarchi quindi Severini converge in mezzo al campo palla un po' rischiosa per Nonni che la allontana allarga però benissimo dalla parte di Cicconetti Quacquarelli non pulito il suo intervento Cicconetti può puntare ma andare anche al tiro sul destro viene chiuso e deve uscire dall'area di rigore ancora Cicconetti cade anche l'assistente davvero finale pericoloso per tutti Tortelli palla interessante dentro che non viene però seguita da nessuno Prosperi stava guardando da tutt'altra parte Strano di testa le ha prese tutte lui oggi partita da dominatore assoluto dell'area per Strano come sempre tutti quelli che sono andati a duellare con lui oggi sono usciti con le ossa rotte cambio per il Tolentino esce Salvatelli che finalmente potrà andare a sedersi in panchina ed entra Fufanà occhio ai suoi strappi perché siamo a un minuto più recupero al termine e Fufanà se dovesse avere lo spazio per partire anche in contropiede e poi può rendersi pericolosissimo ha già fatto un gol in questa stagione proprio con la sua ripartenza a un gran passo potrebbe essere una scelta interessante punizione Tolentino la batte Cicconetti palla lunga cercare prosperi la che passa non viene seguita da nessuno con la maglia cremisi Tolentino che negli ultimi istanti sembra volersi un po' accontentare del pareggio non è una scelta sbagliata visto l'avversario però vista la situazione è normale anche farsi un po' ingolosire vista la superiorità numerica Senigallesi ancora un conto in sospeso Senigallesi con Bucosse credo che voglia giocarsi ancora le sue ultime carte Alessandrini lancio lungo la chiama Bucosse si arrabbia tantissimo perché non è intervenuto con Bucosse chi la chiamava a gran voce 4 di recupero a partire da ora match che finirà il 94esimo campanine di Pacciardi lotta Senigallesi che prova a metterla giù c'è da terra non c'è fallo Cicconetti alza la testa prova il lancio ma di fatto la palla rimbalza le parti di sbaffo che va sul destro prova il tiro ribattuto da Bonacchi ancora Cicconetti rischia tanto Ferretti fermato da Nonni con un intervento preciso e pulito sul pallone Bonacchi per Zammarchi si gira forse dalla parte sbagliata perché sulla sinistra del campo c'era Fofana pronto a partire Severini Zammarchi rimane lì vicino ancora Severini tergiversa un po' e poi prova ad andarsene e si prende il calcio di punizione punizione per il Tolentino un minuto dei 4 di recupero è già quasi svanito ne rimangono soltanto 3 punizione per il Tolentino credo che non verranno effettuati più cambi né da una parte né dall'altra se è vero che non si scalda più nessuno nella panchina del Tolentino si scalda ancora quasi tutta la panchina della Reganatese ma non so quali cambi possa fare a 3 minuti della fine mister Pagliari col Tolentino che ora sta attaccando Cicconetti palla lunga Tolentino che però quelle poche occasioni che ha avuto nel finale di partita le ha davvero buttate via con leggerezza Urbietis l'invio lungo le ultime speranze per gli ospiti per provare a prendersi tre punti che davvero sarebbero oro per la corsa al titolo Sbaffo batte subito la rimessa verso Sinigayesi la tocca però Severini palla poi allontanata subito prova a correre Prosperi con Pacciardi è bravo però Pacciardi mettersi avanti col corpo lotta ancora Prosperi Pacciardi bravissimo a servire Ferrante in qualche modo Guacquarelli alza la testa la soluzione è sempre quella provare a servire Sbaffo ma c'è poco da fare problemi forse addirittura per Griego che è a terra nonostante si è così alza la bandierina l'assistente la palla è uscita sul controllo di Guacquarelli invenzione di Sinigayesi non sfruttata dal terzino della Recanatese 45 secondi al termine non gli dice a Bucose di aspettare di temporeggiare di prendersi tutto il tempo giusto per prendersi questo punto ripulisce le scarpe Bucose 30 secondi al termine Tolentino che con le unghie con i denti con le assenze si sta andando a prendere un punto davvero molto importante con una squadra con cui è complicatissimo fare punti Alessandrini rinvio lungo a cercare Ferretti lotta Nonni che stacca di testa palla che rimane lì ancora Nonni la allontana in qualche modo la tiene in campo 10 secondi al termine manca soltanto il fisco dell'arbitro che arriva praticamente in questo momento finisce qui al della vittoria tra Tolentino e Recanatese è 0 a 0 con un uomo in meno la squadra di mister Pagliari non riesce a battere il Tolentino non riesce a fare i suoi primi tre punti del 2022 ma in qualche modo riesce anche a non perdere contro un Tolentino che si accontenta del pareggio ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato diamo appuntamento sempre qui per le prossime partite del Tolentino grazie a tutti